Nemmeno un grammo di immondizia verrà depositato sul suolo comunale, non lo permetterò. Sono le dichiarazioni del sindaco di Polla, Rocco Giuliano, dove sul paese ritorna il pericolo di trasferimento delle goballe da Cerra nel sito ubicato nella zona industriale di Polla. Un ritorno confermato senza indugi da Vincenzo Petrosino, commissario liquidatore di Ecoambiente, al quotidiano La Città di Salerno. Noi andiamo avanti, ha rimarcato il dirigente della società provinciale, e anche contro la provincia di Salerno si scaglia Giuliano, che sottolinea la nostra redazione, siamo rammaricati per la scorrettezza istituzionale dimostrata, in quanto sia il comune di Polla che la comunità montana Vallo di Diano hanno deliberato la ferma opposizione al trasferimento delle goballe nel Vallo di Diano, ma Petrosino, sempre attraverso le pagine del quotidiano salernitano, aggiunge anche un altro particolare che preoccupa ed indigna il sindaco Giuliano. Abbiamo trasmesso il progetto di Polla e stiamo portando avanti gli incartamenti necessari all'adempimento delle procedure amministrative, procedure che dovrebbero portare il sito di Polla a stoccare fino a 2000 tonnellate di secco tritrovagliato durante l'emergenza che si presenterà a settembre. Gli amministratori della provincia, che non ascoltano le istanze del territorio, si portino nei loro comuni rifiuti che vogliono destinare a Polla, ha concluso adirato Rocco Giuliano.